Il Milan perde in casa col Borussia Dortmund e salvo miracoli dice addio in pratica alle residue e speranze di qualificazione alle ottavie di finale di Champions League. C'è una minima speranza di andare in Europa League andando a battere il Newcastle. In pratica ci sarebbe anche una piccola possibilità di accedere alla fase successiva di Champions League battendo il Newcastle e sperando nella sconfitta del PSG a Dortmund contro il Borussia. Però ovviamente le speranze sono minime, però nel calcio tutto può succedere. Ieri sera in pratica si è visto pochissimo, squadra senza gioco, senza idee, senza motivazioni, il problema infortuni non può essere più un caso. Anzi, sono quasi praticamente tutti infortuni muscolari e vuol dire che il tecnico e il suo staff non hanno lavorato bene sia durante la preparazione ma fino ad ora perché se fino a 2, 3, 4, 5 infortuni ci possono anche stare. Si può parlare di sfortuna, ma arrivati a 25 infortuni muscolari da agosto a novembre sono tanti e vuol dire che qualcosa nel lavoro tecnico di Pioli e del suo staff non va bene. A questo punto questa squadra ha bisogno di una scossa. Anche alcune scelte tecniche fatte dallo stesso Pioli sono un po' discutibili. Non discutiamo quella di ieri sera di Krunic, centrale difensivo al posto di Ciao perché purtroppo l'unico difensore di ruolo era Tomori, era già in campo, non c'era più un difensore centrale in panchina. Quindi l'unica soluzione era quella, anche perché passare a 3 in difesa era un po' difficile perché i tre difensori dovevano essere Calabria, Tomori e Teo Hernandez. Non c'era possibilità di vedere Calabria e Teo Hernandez come difensori nei tre di difesa. Quindi quella di ieri sera come scelta può anche ritenersi giusta. Alla fine certo che vedere il Milan negli ultimi 25 minuti con Krunic, difensore centrale e Czaka Traorejovic di punta fa capire quanto la profondità di questa rosa sia ampiamente limitata. Gli infortuni sono tanti, non possono essere una scusante. Ovviamente togliere l'Eao a questo Milan è come togliere l'anima a una squadra di calcio, a qualsiasi squadra. Però purtroppo le riserve sono quelle e quindi non ci possono essere altre alternative. Fatto sta che la situazione in Fortuni va risolta. A Newcastle il Milan se l'andrà a giocare non dipende più solo dai rossoneri perché sì, si può vincere in Inghilterra ma devi sempre sperare nella sconfitta del Paris Germain in Germania. Per quanto riguarda il resto, già con la Fiorentina il Milan aveva vinto ma non meritava i pareggi di Lecce e Napoli in rimonta. Le sconfitte contro Udinese e Juventus in casa avevano già fatto vedere qualche campanello d'allarme e a questa squadra va data una scossa. La scossa probabilmente potrebbe anche essere lo stesso allontanamento da ganatore perché sinceramente a questo punto della stagione, ma già nella scorsa stagione a partire da gennaio in poi, Pioli non è l'unico colpevole perché anche i giocatori hanno le loro colpe, però sinceramente per quanto mi riguarda è in totale confusione e ha perso anche le redini di questa squadra. Quindi vedremo cosa succederà in questo futuro. Sabato a San Siro arriva il Fosinone, il Milan è in totale emergenza sia nel reparto difensivo ma anche in quello d'attacco perché se ieri sera Giroud era presente in campo ricordiamo che sabato sarà ancora squalificato e quindi con Leao infortunato ci affideremo sempre di nuovo a Jovic, Ciukueze e Pulisic come reparto offensivo. Ovviamente tornerà a disposizione Camarda però l'assenza di Giroud, l'assenza di Leao, ovviamente non il Giroud di ieri sera ma il Giroud che per due anni da solo ha tirato l'attacco del Milan fino ad ora quindi ci può stare anche una partita giocata male anche se purtroppo è capitata nella partita decisiva e a questo punto testa al Fosinone e speriamo che la rotta inizia a cambiare e quindi si torna a vincere e a fare risultati e a risalire la classifica e poi sperare in Champions League.